eccoci qui buongiorno buongiorno a tutti ben ritrovati su radio rossonera siamo qui con voi quest'oggi per parlare un pochino delle pagelle alla stagione del milan duemilaventitré duemilaventiquattro ci divideremo per reparti per macro reparti quindi portieri difensori centrocampisti ed attaccanti in una stagione piuttosto controversa sufficiente buona più che buona scegliete voi insomma il giudizio per il campionato difficoltosa estremamente difficoltosa per quanto riguarda invece la coppa italia e soprattutto la campagna europea sia champions league che europa league però bisogna comunque trovare il modo di dare dei voti sono dei voti che abbiamo deciso un pochino tutti insieme dividendoci un pochino appunto tra i reparti tra i ruoli e tra i nomi io iniziando vi chiedo subito di mettere mi piace quindi cliccate like a questo video mettete mi piace qua sotto diteci la vostra i vostri voti nei commenti vi invito come sempre ad avere però rispetto educazione mi raccomando scrivete la vostra opinione senza diciamo eccedere nell'insulto nelle brutte parole perché ognuno poi ha opinioni diverse quindi è giusto anche confrontarsi ed è bello confrontarsi ma cercate di farlo sempre nell'educazione nel rispetto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per tutte le notifiche come dicevo e come starete già leggendo proprio qui partiamo dai portieri i tre portieri di questa stagione e partiamo con il titolarissimo anche se quest'anno poi nemmeno più di tanto mike magnan abbiamo dato sei a mike magnan qualcuno potrà non essere d'accordo potrà pensare non è una stagione sufficiente non è stata una stagione al suo livello probabilmente sì nel senso che mike ha commesso parecchi errori quest'anno ma comunque nella prima parte di stagione che forse qualcuno si è già dimenticato ha anche compiuto tante parate decisive è stato poi anche lui vittima di qualche infortunio che forse chissà ne ha compromesso anche un pochino il rendimento la sufficienza viene raggiunta per quanto mie ci riguarda soprattutto per un aspetto cioè la sua leadership il suo anche la sua comunicazione insomma il suo modo di essere dentro e fuori dal campo sottolineato anche da tanti suoi compagni di squadra dall'allenatore insomma il milan perderà girù e chier quest'anno li ha avuti comunque soprattutto girù ma chi era un po meno la leadership di magnan in certe situazioni per dare un po una striglia alla squadra è servita e e quindi porta a nostro avviso magnan alla sufficienza ripeto non è stata una stagione eccezionale di magnan ha commesso tanti errori lo sappiamo benissimo alcuni che sono anche costati dei punti però comunque la prima parte di stagione questa componente carismatica di leadership lo fanno comunque arrivare al 6 poi avremmo potuto mettere magari 6 meno 6 meno meno scegliete voi il vostro voto però questo è il nostro giudizio su mike magnan il secondo portiere è stato sportialo che invece si prende un bel 6 e mezzo per un semplice motivo è vero non ha magari in qualche occasione qualcosa ha lasciato giù non è a livello di magnan come come portiere non è a livello di tanti altri portieri però le partite che ha giocato le ha sempre giocate al massimo ha sempre fatto ottime partite mi ricordo per esempio quella verona con quel grande intervento su follow ruscio anche a torino contro la juve con un intervento super insomma è stato un secondo portiere decisamente migliore rispetto a quelli degli ultimi anni mi verrebbe da dire e quindi ha qualcosa in più rispetto alla sufficienza perché si è comportato bene si è comportato molto bene serve per le liste io direi che il buon sportiello possa fare secondo anche nella prossima nella prossima stagione chiudiamo con mirante anche lui si prende si prende 6 ha giocato anche lui veramente qualche spezzone di partita e però per esempio contro la juve nella sconfitta san siro sul gol non può nulla ed è anche tra l'altro tra i tra i migliori in campo quindi per mirante veramente una manciata di minuti saluta il milan ma lo fa con grande professionalità lavorando comunque molto bene in gruppo anche molti suoi compagni sottolineano spesso questa cosa quindi direi che mai che pardon Antonio mirante saluta il milan in un ottimo modo anche lui è stato importante quest'anno e si prende anche lui la sufficienza prima di passare difensori vi ricordo di nuovo di scrivere il vostro voto qui sotto nei commenti archiviati portieri è il momento di parlare dei dei difensori un reparto che ha vissuto una stagione piuttosto complicata soprattutto per via dei dei molti infortuni che hanno martoriato in particolare i difensori centrali ma partiamo con calma andiamo ad analizzare i giocatori uno alla volta per primo abbiamo il capitano Davide Calabria stagione complicata per lui sicuramente sono mancati i picchi che ha avuto nella scorsa stagione in particolare nelle sfide mi viene in mente il Napoli in cui era riuscito a tenere a gestire molto bene avversari di di massimo livello e soprattutto al massimo stato di forma come era eh Kvarascheglia lo scorso anno e in più è mancato un pochino in quella leadership che in una stagione che ha avuto eh così tanti alti e bassi così tanti momenti complicati anche da un punto di vista proprio mentale e caratteriale è mancata un pochino la sua la sua leadership la leadership che poteva avere un Ibrahimovic o che anche ha avuto negli anni passati eh Giroud o Chieri insomma tutti i giocatori che sono stati guide per i più piccoli per i più giovani ehm nello spogliatoio quindi non riesce a prendere la la sufficienza e per la nostra redazione la sua è una stagione da cinque e mezzo fa meglio di lui il suo compagno di reparto il suo chiamarlo sostituto è persino ingeneroso ovvero Alessandro Florenzi che sicuramente non fa una stagione di in cui spicca particolarmente però si porta a casa suo il suo onesto sei gioca comunque sempre con con attenzione difensiva riesce sempre a creare dei pericoli in fase offensiva e sicuramente la sua presenza si si fa sentire finalmente per lui in più un anno eh in cui gli infortuni non sono stati effettivamente un fattore ma in cui è riuscito a trovare continuità di di rendimento continuità di presenza e soprattutto questo ha portato anche a una certa continuità poi di di prestazione in campo sicuramente la sua qualità soprattutto tecnica si vede sia quando deve coprire in fase difensiva ma anche soprattutto quando deve magari andare al cross dopo una sovrapposizione nelle azioni offensive del Milan la stagione di Pierre Caloulou purtroppo è ingiudicabile secondo noi eh veramente troppe poche le presenze e in generale le partite giudicabili del difensore francese stagione assolutamente pesantemente condizionata dagli infortuni e anche quei pochi minuti in campo di Caloulou non sono poi ehm giudicabili in maniera corretta proprio per via di questa forma fisica che non c'è mai stata sostanzialmente durante l'anno proprio per colpa di di questi infortuni che gli hanno impedito di giocare con continuità di raggiungere il suo il suo picco e la sua massima forma ehm apprezziamo come sempre la sua duttilità dato che è stato utilizzato da difensore centrale ma anche da terzino destro soprattutto nella parte eh finale della stagione Simon Kier sei sufficienza per lui ultima stagione di Kier in in maglia rossonera questo è un sei che vuole in qualche modo essere anche un un riconoscimento un nostro eh personale grazie per per questi anni insieme per tutto ciò che Kier ehm ha portato al Milan soprattutto da un punto di vista del carisma della leadership ehm del reparto difensivo ma in generale di di tutta la squadra eh anche la sua stagione è stata condizionata da una eh una situazione fisica mai ottimale come anche effettivamente lo scorso anno l'età probabilmente si è un pochino fatta sentire ehm e questo lo ha portato a faticare in alcune partite soprattutto eh quando era in in dei momenti in delle sfide molto ravvicinate rispetto al rientro dai suoi infortuni quel breve periodo in cui però è riuscito a giocare con un pochino di continuità sicuramente la sua presenza sia tecnico tattica che soprattutto emotiva e mentale si è assolutamente sentita in campo. Terracciano non giudicabile nemmeno la sua la sua stagione Terracciano arriva nel nel mercato di riparazione ehm l'unico acquisto vero e proprio del mercato di riparazione assieme a Gabbia che però non viene semplicemente richiamato dal prestito al al Villareal arriva come vice Teo possiamo definirlo così eh dal Verona mh purtroppo non riesce mai a a a imporsi a guadagnarsi non dico la titolarità ma quantomeno degli spezzoni concreti e convincenti di partita questo porta la sua esperienza in rosso nero fino a questo momento ad essere poco più di un apprendistato eh pochi minuti in campo poche poche prestazioni poche giocate da da segnalare niente di niente di particolare sicuramente un ragazzo giovane un ragazzo di prospettiva e potrà avere magari più più spazio potrà avere le sue occasioni magari fin dal dal prossimo anno Teo Hernandez voto sei e mezzo stagione si potrebbe dire dai due volti ma sicuramente uno dei migliori del reparto arretrato rosso nero eh i primi mesi di Teo Hernandez sono profondamente negativi eh non si riesce a comprendere perché il ragazzo non riesca a entrare nella giusta condizione di forma a essere incisivo con la sua tipica corsa e in più commette tanti errori soprattutto in fase di impostazione in fase di di palleggio poi verso fine novembre soprattutto nel mese di dicembre entra in forma e comincia a diventare dominante si sacrifica nel momento di massima emergenza infortuni del Milan si adatta addirittura a fare il difensore centrale e lo fa con con qualità con applicazione con impegno con mentalità da terzino è un fattore su quella corsia spinge riesce sempre a essere incisivo crea una batteria costantemente pericolosa assieme a Raffaele Au sicuramente eh la sua crescita è verticale si nota nel corso della della stagione quando tocca i picchi di di condizione fisica e quindi di prestazioni non non torna più ai livelli di di inizio campionato sicuramente bisogna aggiustare quei primi mesi che quest'anno sono stati negativi il prossimo anno è giusto pretendere da Teo Hernandez una stagione giocata ad alto livello dall'inizio fino alla fine Matteo Hernandez è uno dei senatori di questo Milan ricordiamolo il giocatore in rosa al Milan da più tempo dopo Davide Calabria infatti è il vicecapitano di questa squadra è legittimo aspettarsi molto da lui per la prossima stagione e può imporsi ancora più di quanto fatto vedere in questa stagione Malik Chao ha vissuto un'annata di alti e bassi eh sicuramente ha iniziato molto bene la stagione al contrario di Teo Hernandez eh è riuscito a creare una coppia di difensori centrali titolari assieme a Tomori che ha funzionato molto bene nei primi mesi di questa stagione anche lui purtroppo è stato vittima della strage della miriade di infortuni della della stagione rossonera e non è più riuscito a ritornare sui livelli di inizio anno dopo il suo infortunio rimediato nella fondamentale partita di Champions League a San Siro contro il Borussia Dortmund partita che poi stata questo ovviamente non è colpa del povero Chao partita che è stata condizionata da questo infortunio a livello soprattutto psicologico ehm dato che i compagni non sono riusciti più a rialzare la testa dopo il suo cambio forzato eh sicuramente appunto anche per lui una stagione dei due volti ma eh opposta rispetto a quella di Teo Hernandez in cui purtroppo i momenti negativi e le partite non eccessivamente positive sono inferiori sono superiori rispetto ai alle alle presenze ad alto livello dei primi dei primi mesi uno dei migliori probabilmente del reparto sicuramente all'inizio della stagione è Ficaglio Tomori Tomori ha iniziato la stagione da leader assoluto ha capito che doveva prendere lui in mano la la difesa con un che non poteva più garantire con costanza la sua presenza e il suo ruolo di leadership in campo ha deciso di prendere lui questa questa eredità e lo ha fatto molto bene sicuramente è stato il più costante di tutta la linea difensiva nel corso della stagione è stato anche paradossalmente eh quasi una nota di merito l'ultimo a infortunarsi fino a dicembre è stato assolutamente una colonna probabilmente uno dei migliori giocatori di tutta la stagione di tutta la rosa del Milan fino al mese di dicembre a Salerno anche lui purtroppo eh anche e soprattutto alla luce dei moltissimi infortuni dei suoi compagni che lo hanno costretto a giocare per tantissimi minuti tantissime gare consecutive ha avuto uno stop di natura muscolare eh quando è rientrato non ha più eh imposto le prestazioni e il livello mostrato a inizio stagione ma sicuramente ehm ha dimostrato di essere probabilmente il difensore in questo momento più completo più attrezzato del Milan e che senza ombra di dubbio il prossimo anno deve puntare a una costanza sia di rendimento che di integrità fisica e per ultimo nella nostro nel nostro pagellone della difesa del Milan abbiamo lasciato quello che a nostro modo di vedere è il miglior difensore della stagione del Milan ovvero Matteo Gabbia ehm Gabbia i primi mesi di quest'annata è stato ceduto in prestito al Villareal eh in terra spagnola ha totalizzato un buon numero di presenze soprattutto nella prima parte della sua esperienza poi a seguito del cambio di allenatore ha trovato sempre meno spazio e anche alla luce di queste emergenze infortuni di cui ho parlato a lungo purtroppo durante l'analisi delle delle pagelle di tutto questo reparto è stato richiamato dal prestito eh sicuramente nessuno si aspettava che tornasse un giocatore di questo tipo un giocatore così cresciuto così maturato è stato costantemente tra i migliori in campo nella seconda parte di stagione è diventato quasi un un intoccabile per Stefano Pioli nel corso dell'annata ha trovato anche dei gol che sicuramente male non fanno ma ciò che stupisce proprio la sua crescita da un punto di vista del del carattere della grinta dell'energia in campo ma anche sicuramente sotto l'aspetto tecnico tante chiusure col tempismo giusto nessun errore degno di nota e un'attenzione costante messa in campo sicuramente è la più bella sorpresa almeno nella retroguardia della della stagione rossonera ed è a tutti gli effetti come se fosse un nuovo acquisto un difensore in più acquisito per per il milan sicuramente un ragazzo che ha ricevuto tante critiche eh anche giuste nel corso del della sua carriera e del suo periodo al milan ma che quest'anno eh ha messo davanti agli occhi di tutti la sua crescita il suo impegno la voglia di migliorare e se riuscirà ad affermarsi su questo livello e magari addirittura a continuare nel suo percorso di crescita e di miglioramento l'anno prossimo sarà sicuramente un'arma in più un'arma ulteriore di questo milan ora abbiamo finalmente terminato il lungo e difficile reparto difensivo andiamo un attimo a vedere allora i voti del centro capo eccoci qua con i centrocampisti sicuramente è stato uno dei reparti più complicati per queste pagelle pagelle che non sono state semplici come come vedete è stata una stagione complicata però abbiamo dovuto fare queste pagelle e direi di iniziare con il primo centrocampista Yasin Adli a proposito di giudizi complicati la stagione di Yasin inizia in maniera eh non usuale perché lui si sposta in un ruolo non suo va a centrocampo ovviamente tanti dubbi per la stagione precedente l'avevamo visto poco nel suo ruolo naturale e quindi era un grande punto interrogativo Yasin questo sei deriva dal fatto che appunto ha giocato in un ruolo non suo l'abbiamo visto in partite sorprendenti perché a volte Yasin ci ha sorpreso in bene a volte invece ha deluso molto le aspettative soprattutto in trasferta ha fatto tanta tanta fatica però devo dire che questo sei è stato non di incoraggiamento però comunque è stato un sei per l'impegno per ciò che ha fatto vedere per il ruolo non suo sicuramente deve migliorare e molto in quel ruolo ammesso che lo rivedremo in quel ruolo anche qui c'è un grande punto interrogativo però viste le premesse vista la stagione passata visto appunto il ruolo un sei Yasin se lo meritava Ismail Ben Nasser Ismail Ben Nasser non lo vediamo tantissimo causa quel bruttissimo infortunio avvenuto l'anno scorso durante quel derby derby con l'Inter in semifinale partita che purtroppo ci ricordiamo e che purtroppo lui si ricorda non solo per risultato ma anche per quel brutto infortunio la stagione di Isma inizia in maniera dubbiosa no perché non si sa quando torna anzi torna anche prima rispetto a quanto tutti si aspettavano il cinque e mezzo è perché non è il miglior Ben Nasser visto dopo l'infortunio tanta fatica è stato l'unico a rimanere no del del centrocampo che tanto piaceva tonali che si Ben Nasser però sicuramente da da un giocatore così ci si aspetta di più ci si aspetta di più a livello di leadership a livello tecnico a livello proprio di prendere in mano il centrocampo che mio parere è stato il reparto più in difficoltà quest'anno il cinque e mezzo è soprattutto oltre alle prestazioni poco convincenti di Ben Nasser proprio perché da lui ci si aspetta molto molto di più Iunos Musa anche qui a mio parere sei di incoraggiamento perché Iunos è molto giovane gioca in tantissimi ruoli differenti in questo anno per lui diverse difficoltà però devo dire che l'impegno l'impegno si è visto ovviamente ancora deve trovare una sua quadra no perché non abbiamo capito in quale ruolo Iunos può fare meglio sicuramente è stata una stagione per lui complicata non ha giocato tantissimo quando ha giocato spesso ha dovuto ricoprire appunto ruoli diversi ma ha avuto anche compiti diversi spesso l'abbiamo visto magari anche in gare un po' confuso anche a volte un po' arrabbiato però ecco il sei è di incoraggiamento da un centrocampista che gioca nel Milan ci si aspetta sicuramente di più come vedete la frase ci si aspetta di più accomuna tutti i centrocampisti di questa stagione vedremo anche i prossimi però ecco il sei per Iunos è di incoraggiamento love to cheek voto che ha fatto discutere abbiamo visto anche nel post sulla nostra pagina instagram allora partiamo dal presupposto che quel sette è dato molto dal fatto che l'oftus ha segnato tantissimo in questa stagione ha segnato tantissimo per un centrocampista perché comunque quei numeri non sono scontati per un giocatore che gioca nel suo ruolo poi mi direte vabbè però ha giocato molto in avanti molto vicino al girù ed è vero però di fatto non è scontato per un centrocampista segnare quei gol sette un voto alto forse sì ci siamo anche un po' scontrati in redazione per dare questo voto io avrei dato un po' meno perché è vero i gol però per me l'oftus è venuto a mancare in tante prestazioni io di l'oftus mi ricordo quella partita con il pari san germain in casa bellissima in cui lui sicuramente mostra il suo meglio però io una partita così da l'oftus non l'ho più rivista a livello proprio di prestazione poi è vero che ha segnato ha risolto alcune partite con la sua strapotenza fisica che comunque una sua caratteristica importante però io a livello di prestazioni di presenza da un giocatore così voglio di più perché è vero è importante sicuramente fare gol però a livello di prestazioni a volte l'oftus l'ho visto sparire in alcune partite in cui serviva un giocatore come lui non è stato tanto presente quindi questo sette per me è un po' esagerato però ribadisco segnare così tanti gol per un centrocampista non è scontato e quindi l'oftus sette tommaso povega senza voto perché la sua stagione è molto complicata da da giudicare ha subito un infortunio grave eh non l'abbiamo praticamente mai visto e quindi difficilissimo dare un voto avremmo potuto dare sei politico sì però davvero abbiamo visto veramente poco di di tommaso povega anche perché è sempre complicato dare un voto e farci un'idea veritiera dopo un infortunio così così complicato ci auguriamo di poterlo vedere di più per appunto potergli dare un voto anche nella prossima stagione l'ultimo centrocampista di oggi ehm tigiani renders anche qui motivo di discussione in redazione perché c'è chi voleva dare questo voto c'è chi voleva dare di meno io personalmente volevo dare sei semplicemente perché è un giocatore che ha le qualità per poter fare di più però dall'altra parte è anche vero che l'abbiamo visto anche ehm in una posizione di campo un po' strana no per renders ha iniziato la stagione giocando molto in avanti la palla gli passava sopra la testa quindi non era tanto nel centro del gioco poi però ovviamente le cose sono un po' cambiate fino a un certo punto però ecco dare un giudizio a questo giocatore non è così semplice perché comunque è arrivato con tanta tanta aspettativa a livello tecnico c'è ancora questa questa aspettativa questa grande considerazione però da un giocatore che ha queste qualità anche qui vi ripeto la sempre la stessa frase ma è così ci si aspetta molto molto di più non ha giocato una cattiva stagione sicuramente eh un lato positivo che ha giocato moltissimo è rimasto anche sano perché data la stagione del Milan non è scontato comunque non subire più di tanto infortuni lui comunque ha giocato molto è arrivato anche molto stanco ad un certo punto della stagione però come altri giocatori l'ho sentito poco nelle gare nelle gare importanti nella gara in cui la maglia del Milan pesava quando si arrivava alla resa dei conti quindi devo dire che sei e mezzo perché comunque ha fatto vedere delle buone cose però anche lui deve fare vedere delle cose migliori rispetto a quelle che ha fatto vedere quest'anno passiamo la lina Simone Cristau per gli attaccanti chiudiamo chiudiamo qui con le pagelle con gli attaccanti ovvero il reparto finale con quelli che sono gli ultimi uno due tre quattro cinque sei voti sei voti per gli attaccanti reparto che ha fatto bene a livello numerico anche perché insomma il Milan ha fatto tanti gol ma insomma qualcuno ha fatto meglio qualcuno ha fatto peggio partiamo da chi forse ha fatto peggio ovvero Samu Ciuquese che prende cinque e mezzo Samu ha fatto fatica insomma è innegabile che soprattutto i primi mesi di stagione ha fatto parecchia fatica a trovare spazio quando l'ha trovata a volte non ha fatto grande bene quando magari si poteva anche dare un pochino di più di continuità la partita dopo magari non è stato utilizzato ma insomma è stata una stagione complicata per per Samu che tra l'altro ha visto forse giocare nella sua posizione quello che è stato il miglior giocatore della stagione anche questo è il motivo per il quale non ha trovato grande spazio ma lo aspettiamo per il prossimo anno visto che è stato un acquisto oneroso e abbiamo bisogno sicuramente della sua qualità però d'altronde per ora non può arrivare alla sufficienza dal migliore scusate dal peggiore al migliore Pulisic Pulisic che è stato sicuramente il giocatore più continuo di tutti prende otto prende il voto più principale e più alto di queste pagelle prende un otto pieno perché perché è stato come detto il più continuo quello che ha fatto più gol più assist spalmati nel tempo a livello numerico no però la spia ha spalmato un pochino più rispetto ad altri giocatori quando non ha fatto bene tendenzialmente più o meno se l'è sempre cavata anche se rimane un piccolo neo ovvero quello delle partite con le big che è riuscito difficilmente a risolvere anzi in quelle circostanze si è visto un po' poco questo forse deve essere il passaggio finale per la prossima stagione non va nelle pagelle ma è un buon merito quello di essere riuscito a passare quasi indenne in questa stagione dal punto di vista fisico visto che comunque era un giocatore che ogni tanto cadeva in qualche problema atletico invece quest'anno nonostante tutto è riuscito a fare più o meno percorso netto quindi otto a Pulisic che è stato sicuramente il migliore sei per Ocafor Ocafor che ha fatto vedere buoni lampi ma alla fine complice forse qualche infortuna di troppo qualche panchina di troppo in generale non ha dato grande continuità alla stagione è stato sì importante per portare a casa qualche buon punto però alla fine è stato più un voto potenziale che un voto reale quello che abbiamo dato a Anoa che io continuo a pensare almeno personalmente continuo a pensare che sia uno dei migliori acquisti fatti quest'anno potenzialmente a quelle cifre per il rendimento che avrà anche nelle prossime stagioni sarà sarà un buono sarà un buon acquisto a valutare Jovic prende sei che credo che sia un pochino la media tra quello che sono i suoi numeri i freddi numeri ovvero potrà prendere anche sette per i numeri avuti come seconda punta a fare quasi una decina di gol che sicuramente è un bel andare un bel contributo è insufficiente invece a livello di prestazione pura e singola cioè tolti i gol nella partita la presenza di Jovic si è vista veramente poco forse se chiudiamo gli occhi c'è quel bel contropiede a Newcastle per i gol di Cioccoese o o poco altro insomma forse un'imbucata per te o contro la Fiorentina per il resto veramente poco poco da dire per il suo lavoro extra gol però come detto i gol li ha fatti i punti li ha portati e quindi comunque una sufficienza direi che alla fine della fiera a fine anno la porta a casa chiude gli ultimi due minuti con Olivier Giroud che prende sei e mezzo Oli come vedete nella grafica di fianco alla fine ha chiuso con diciassette nove assist quindi un bel andare alla fine insomma per essere la punta centrale di una squadra top ha portato ventisei gol tra gol e assist diciassette più nove è stata sicuramente la sua stagione più difficile a livello fisico senza ombra di dubbio ha fatto fatica ad essere continuo anche nella stessa partita i colpi non mancano perché alla fine lo avevamo visto i colpi non li sono mancati al netto di qualche rigore sbagliato un po' pesante ma ragazzi cioè i gol le vanno e vengono per una punta non è quello là il discorso non ha avuto granché compagnia in attacco se non quello di Jovic ogni tanto però bisogna dire soltanto grazie a questo ragazzone di 38 anni che dopo tre stagioni lascia al Milan lo lascia da da campione vero ecco quello che ci ha lasciato è l'idea di essere tornati ad avere un campione là davanti che sfortunatamente però è arrivato un po' tardi al Milan eccoci qua forse al voto che dividerà di più ovvero il sette e mezzo di Rafa e Leao sette e mezzo perché lo dicono i numeri qui di fianco sono ventinove gol quindici diretti via di di Rafa più i quattordici assist sono ventinove gol stagionali portati alla causa del Milan non proprio bazzecole anzi tutt'altro eh sono quindici uguali quattordici assist e comunque ci sono non sono non sono da buttare via sicuramente Rafa non ha fatto una stagione esaltante l'unica vera grandissima partita la regalata quel Paris Saint Germain per il resto è stato un po' il classico indivago Rafa dove ogni tanto si accende fa bene ogni tanto si spegne e scompare nelle partite decisivi di questo finale di stagione un po' ha lasciato poca traccia insomma è stato mi verrebbe dire purtroppo tra virgolette il solito Rafa quello che nel bene e nel male decide una buona parte delle sorti del Milan quello che viene costantemente raddoppiato e triplicato perché comunque è il pericolo principale del Milan quello a cui affidiamo sempre il pallone quando non sappiamo cosa fare e che ogni tanto riserviamo anche qualche preghiera quando siamo in difficoltà insomma Rafa può fare sicuramente sempre di più meriterebbe di fare di più vedremo se quel prossimo allenatore farà di più o in generale avrà uno step di carriera positivo per ora si ferma a sette e mezzo perché come detto comunque nel bene e nel male ventinove gol tra i quindici fatti e quattordici assist li ha portati a casa altri non l'hanno fatto e schifo non fa quindici più quattordici siamo arrivati in chiusura di queste pagelle potete dare le vostre qui sotto potete mettere like e scrivere commenti insomma le pagelle sono ovviamente la cosa più personale che c'è quindi potete commentare con le vostre grazie a tutti per essere rimasti qui con noi buon weekend per quel che ne rimane ci ritroviamo lunedì per commentare tutto quello che è l'attualità rosso nera grazie ancora e buona settimana